Un posto al sole, teorie trame future, Diego e Ida decidono di crescere insieme Tommy. Nella puntata di giovedì 25 gennaio di Un posto al sole, Diego e Ida sono diventati ancora più vicini. Molti spettatori desiderano da tempo un lieto fine per questo due personaggi, portando alcuni a teorizzare che i due potrebbero decidere di crescere Tommy insieme. Di seguito l'analisi di questa storia e del suo possibile epilogo. Un posto al sole, domande sul futuro di Tommy La situazione attuale è molto complessa. Tommy è legalmente riconosciuto figlio di Roberto Ferri e Lara Martinelli. Se Ida decidesse di rivolgersi alla polizia, potrebbe richiedere il testo del DNA per dimostrare che Tommaso è suo figlio. Tuttavia, tali azioni potrebbero potenzialmente esporla ad accuse di abbandono di minori e traffico di minori. Uno scenario del genere potrebbe non solo comportare una pena detentiva per Ida, ma anche eliminare la sua possibilità di rivedere i suoi figli. È molto probabile che i bambini vengano inseriti nell'assistenza sociale. L'unica cosa positiva sarebbe fare la cosa giusta e togliere il bambino a Roberto e Marina, che si sono dimostrati genitori poco amorevoli. A Ida non ha via d'uscita l'idea di vedere una sorta di famiglia allargata, comprendente Roberto. Marina, Ida e il piccolo Tommy, sembra ormai un'ipotesi sfumata. Appare chiaro che Ferri e la moglie vedono nella ragazza soltanto un ostacolo ai loro sogni. Nel frattempo, la stessa Ida è chiaramente a disagio con la pazienza della coppia nei suoi confronti. Inoltre, anche le differenze culturali e sociali tra le due parti pongono ostacoli insormontabili. Se Ida decidesse di chiedere aiuto a Lara, potrebbe ritrovarsi in una situazione ancora peggiore di quella in cui si trova attualmente. Tuttavia, molti spettatori vedono Diego come un possibile salvatore. Quindi le sue opzioni sembrano chiaramente limitate. Ma cosa può fare concretamente il giovane Giordano? Se Ida rivelasse la verità, rischierebbe di perdere suo figlio. Una possibilità è convincere Roberto e Marina a lasciarla andare. In questo modo, lei e Feli potevano continuare a sostenere finanziariamente Tommy con le sue spese e i suoi compiti senza ulteriori interferenze nella sua vita. Questa possibilità non è da escludere, considerate i passati cambi di direzione tra le due parti. Resta da vedere se Ida vuole davvero una relazione con Diego. Finora i due si sono solo baciati, quindi è difficile capire se tra loro ci sia una vera storia d'amore. 3. Se riuscisse a riavere Tommy, Ida potrebbe decidere di lasciarsi alle spalle Palazzo Paiadini e cancellare tutti i suoi brutti ricordi. Dalla morte di Ida all'ipotesi di una famiglia felice con Diego visto il fallimento dell'idea di famiglia numerosa, tre epiloghi sono possibili. Il primo scenario prevede che Ida muoia o decida di rompere con Tommy e abbandonarlo definitivamente. In questo caso Roberto diventerà legalmente il padre del bambino e nessuno potrà opporsi alla sua volontà di affidamento. Naturalmente deve occuparsi anche della famiglia di Ida, ma i mezzi non gli mancano. Gli spettatori ovviamente speriano in un secondo scenario in cui Diego e Ida si fidanzano o addirittura si sposano e crescono insieme il piccolo Tommy. Ciò significa che se i due decideranno di lasciare Napoli, o Ida si unirà al gruppo dei protagonisti oppure Diego verrà espulso dalla storia. Al momento non ci sono anticipazioni che rivelino la fattibilità di questi scenari, ma l'ipotesi più probabile resta la terza ed ultima. Ida decide di scappare da tutto e da tutti con Tommy, dopo aver ottenuto il consenso di Filini Marina.